Carmen Russo incarna l'energia e la passione in ogni aspetto della sua vita. È ballerina, sex symbol, regina dei reality e devota madre di Maria, nonché moglie di Enzo Paolo Turchi, attuale concorrente del Grande Fratello. Sebbene Enzo le manchi profondamente, Carmen è pronta a sostenerlo, consapevole dei sacrifici che ha fatto per lei, rinunciando alla sua carriera. In un'intervista, Carmen rivela la chiave del suo amore. Non ho scelto la categoria, ho scelto l'uomo. Ho sempre creduto nelle mie capacità, senza cercare potere o ricchezze. Il nostro incontro era nato come un flirt estivo, ma si è trasformato in qualcosa di profondo. Riguardo alla fama, spiega come la loro relazione si sia evoluta. Enzo Paolo ha visto la mia determinazione e ha deciso di supportarmi, diventando il pilastro della mia carriera. E quando si parla di gelosia, Carmen non esita a confessare, ogni donna innamorata può sentirsi gelosa, ma per ora, vedo che lui mi porta sempre nel cuore. La loro unione è una sinergia perfetta e insieme affrontano le sfide della vita con amore e complicità.